Allora, devi ascoltare i professori Oh, che cavolo! Dai, su! Adesso ti riprendo da qua, eh! Va bene! Vai! No, dov'è? Ci va male un po' questo po' questo po' Le pedivelle, eh! Non ho fatto in tempo, eh! Dai, su! Va bene! Poco gas gli hai dato, eh! Solo quello, eh! Perché chiaramente gli hai dato, ha toccato qua e poi ti sei fermata qua e tornata giù! Un pelino di più di gas! Solo mi ha fatto in tempo a cazzo! Prima! Ma cazzo! Ha fatto il primo pezzetto e il secondo l'ha buttata indietro! Troppo corto! Io sei corto! Sì! Sì! Ma è giusto! Perché sono un po' attivi da fare il primo pezzo! Oh, oh! Dipende! I rapporti con la moto! Eh! I rapporti con la moto! Eh! I rapporti con la moto! Vedi che... Oh! Eh! Oh! Troppo lento! Eccolo! Adesso, no! Adesso aveva paura, non gli ha dato! Adesso non gli ha neanche dato! non gli hai neanche dato adesso è proprio zero